Ed ora un gravissimo episodio di cui è stato vittima Cetteo Di Mascio, responsabile del settore giovanile del Teramo, che è stato aggredito, appunto è stato colpito Cetteo Di Mascio da due ignoti con pugni al volto all'esterno dello stadio Bonolis, definito in ospedale. La nota del Teramo Calcio nel condannare fermamente qualsiasi atto di intimidazione o violenza che nulla hanno a che fare con la nostra città. Il presidente Franco Iachini e la società Teramo Calcio tutta esprimono massima solidarietà e vicinanza al professionista Di Mascio e auspicano che le indagini in corso da parte dei carabinieri possano presto ricondurre agli autori dell'inqualificabile gesto.